Ciao a tutti carciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft dopo tantissimo ma davvero tantissimo tempo siamo tornati su una survival map Questa mappa si chiama sky progress ed è un testo ma cosa Perché c'è la Non ci credo c'è la mia testa là sopra Ragazzi questa è la mia skin Questa è la mia skin perché c'è la mia skin Cioè questa non è una skin che ho preso da internet ragazzi quella è proprio la mia skin l'ho fatta io è la mia skin Perché c'è la ok Ok Allora quello che Guarda che c'è la mia skin Sono proprio io E questa è quella di steve normale invece Magari fatto apposta è fatto apposta ti mette la skin del giocatore che sta giocando forse non lo so è un test questa mappa è Un test perché semplicemente è una mappa nuova non penso che nessuno l'abbia ancora giocata ma è una specie di sky block Migliorata sempre Quindi con altre cose un po' come la sky grind che ho fatto un anno e mezzo fa quasi due non mi ricordo quanto tempo fa l'ho fatta Comunque ci sono delle regole bisogna trovare C'è un monumento con una specie di ctm Vedi ctm complete the monument Ctm per quello che si chiama ctm Devo esplorare le caverne fare un cobblestone generator tutte queste cose Wither ender dragon Andare nel land nel nether Fare una farm Craft a notch apple Insomma dobbiamo fare cose questa è la sky progress ci sono un po' di isole a disposizione da subito Ma non penso che ci interessano Qui possiamo tornare allo spawn E qui possiamo prendere qualcosa di essenziale In caso lo perdessimo E questa potenzialmente potrebbe essere Una bellissima e simpaticissima serie Che potrebbe accompagnarci Per un paio di mesi Magari durante l'estate non lo so Dipende da quanto avvincente è Già il fatto che mi dica che ho bisogno di andare Nel nether nel land Di fare tantissime cose compreso ammazzare Wither ender dragon Computare un monumento di 20 pezzi Cioè tantissima roba Mi da una buona speranza Insomma mi fa capire che potrebbe essere una bella serie Questa qui della sky progress La prima cosa che farò ovviamente è Rimuovere tutta l'erbaccia Cercare di prendere più semini possibili Per cucinare il grano Perché ovviamente siamo nel vuoto Qua sotto non c'è assolutamente niente Se muoio perdo tutto Quindi dobbiamo stare molto attenti Intanto poso tutto qua dentro Direi che potenzialmente una delle prime cose che potrei fare È creare un cobblestone generator Ma prima di fare ciò Voglio anche Aumentare un attimino La mia diciamo Il mio spazio a disposizione Voglio fare in modo di avere più spazio a disposizione Quindi utilizzerò questa terra Anche se non dovrei rimuovere tutta la terra che ho Perché l'erba è anche qua Mi sa che è fondamentale Più che altro non è che è fondamentale Però se poi la levo tutta Non posso più rifarlo la terra Meno che non ci sia su qualche isola No vedi là non c'è la terra C'è solamente il Il coso non mi ricordo ma come si chiama Lì forse c'è della terra Perché vedo delle foglioline Lì c'è della terra ma non c'è l'ervetta Là c'è della clay addirittura Vabbè Ragazzi scaviamo almeno i contorni Voglio fare in modo che No ho preso un blocco Orca vacca Di solito nel skyblock si faceva così Tu scavavi tutto quello che potevi scavare E ricostruivi la piattaforma a qualche livello più in basso In modo da avere più blocchi Ora una cosa che potrei fare Senza distruggere tutte le cose che ci sono qua dentro È Ehm Creare subito il cobblestone generator a questo punto Tanto il secchio ce l'ho Mi serve un blocco d'acqua E un blocco di lava Ehm Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qui Che abbiamo tanto spazio Più o meno Allora prima di fare questa cosa Scaverò un altro blocco E prenderò questi due blocchi di terra Perché non vorrei perderli Addirittura le scaverò ancora un altro Perché qua sopra ci metterò la lava e l'acqua Quindi non voglio che ci sia nulla Metto la lava da una parte No mettiamo prima l'acqua Mettiamo prima l'acqua Quindi Ho bisogno di fare così Bisogno di mettere un blocco Sopra il blocco il ghiaccio È importante questo Perché se tu metti un blocco di ghiaccio Senza nessun blocco sotto Non ti uscirà l'acqua Quindi è importante mettere il blocco Che ho appena perso tra l'altro E poi la lava la mettiamo qui a questo punto O no Se io metto qua la lava dovrei ottenere la cobblestone nel mezzo Sbaglio? Esatto Esatto Ora non so se Se Deva comparire qui o di qui Però nel dubbio abbiamo un cobblestone generator Che è quello che ci interessava Quindi in realtà uno dei primi obiettivi l'abbiamo già raggiunto Ma questa è la cosa base che si fa sempre quando uno fa queste cose Un'altra cosa che farò è piazzare questo blocco E prendermelo nel secchiello Così evitiamo di sprecare il ghiaccio Che non si sa mai che magari per sbaglio lo butto Succede qualcosa Meglio di no Questa torcia che abbiamo la piazziamo per terra Così abbiamo sicurezza che non sponda nessuno Qui nel caso io dovesse andare in qualche isoletta Qua attorno Sono molto curioso di esplorare queste isolette Anche perché sono talmente piccole che secondo me all'interno C'è 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 tipo una cesta per Per isola Ma è bello che Non ci sono solo queste isole Cioè sono piuttosto sicuro A parte là in fondo vedete che ci sono tipo Dei meccanismi Ma ci sono anche altre cose Non so se riuscite a vederle in basso a sinistra Cioè nella 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 pagina di download della mappa ci sono davvero Delle costruzioni davvero fighissime Comunque sky progress Allora piazziamo un Oak sapling Lo facciamo crescere O abbatto questo qui Potrei anche abbattere questo qui Ma il fatto che abbia una scaletta Un posto dove dormire potenzialmente Se io abbatto questa foglia qui Qua posso metterci un letto Ehm Posso levare anche questa Questa è una casa sull'albero alla fine ragazzi Quindi È una casetta che lui mi dà a disposizione Io la terrò La terrò Anzi la tengo molto volentieri Vi dirò Prendo l'hawk sapling Prendo questi bone meal Gli unici bone meal che ho Tra l'altro E lo posso farci molto a riguardo E provo a farli crescere Ci provo a farlo crescere Però il problema è che non ho abbastanza spazio per farlo crescere Quindi non lo farò crescere Scherzavo Non lo farò crescere Ho bisogno di legno Come facciamo? Beh per prima cosa io direi Visto che abbiamo qua Le cose Che sono pronte Per far crescere i semini Tanto vale farli crescere Tanto il pane Probabilmente sarà l'unico cibo Che avremo per un bel po' di tempo Sto pensando al da farsi Io ho 26 blocchi di terra Prendiamone 6 E faccio una cosa di questo tipo Mi allontano Mi allontano E faccio così Prendo il L'hawk sapling Lo piazzo Non lo piazzo in fondo in fondo Perché poi ho paura di perdere troppa roba Anzi vedo di più Prendo un po' di terra E ci faccio attorno un piccolo Una piccola base Nessun so Non vorrei che poi Che possa perdere dei cycling O cose che mi servono Ci provo 1 2 3 4 Ti prego 5 Non ti odio Ti odio Ho preso tutti i miei bombier Per un qualcosa Che non so neanche se crescerà Cioè lo so che crescerà Ma ci vorrà un po' E quindi ora devo Aspettare Che cresca Non ho parole Non ho parole Comunque là in fondo Vedi che ci sono delle cose Vedi? C'è tipo tutta una struttura strana Là in fondo Io sono sicuro di poterci andare lì Però voglio smettere di spiegare terra Perché voglio Prendere Della cobblestone Senza legno però Non posso farlo Non voglio distruggere questa Perché mi ha dato lui la casetta Non posso distruggere Quindi ora bisogna aspettare Intanto io voglio vedere Se posso tornare Sempre qui Ok posso tornare E qua mi fa Back to island Perfetto Perché voglio anche capire Dov'è il monumento Nel senso Go to lag room To reduce lag Ma non ci voglio andare Alla stanza dell'aglio Ci vai tu alla stanza dell'aglio Non ho capito Qua tutto vuoto Cliccami dopo che È iniziata una mappa Oh ho volato via tutto E mi ha pure regalato Oh grazie Mi ha dato la resta un lamp E' un cartello Ah posso trasportarmi allo shop Al generatore di oars Mystical crate Game options Mines And monument Ok allora vedi che mi posso trasportare Allora qua posso andare allo shop Che è questo qui E qui posso comprare le cose Per dollari Quindi poi devo essere abbastanza Bravo da ottenere dei dollari Immagino Potenzialmente dovrò venderli Ecco infatti vendi Vendi 16 pezzi di grano Per 40 dollari 16 patate per 50 dollari 16 carote per 50 dollari Ah posso anche vendere le cose Ok quindi posso sia comprare Che vendere a quanto pare Non tutto Però maggior parte Ad esempio 16 cobblestone per 25 dollari Vuol dire che se io mi faccio una bella Macinata di cobblestone Posso fare un bel po' di soldini Torniamo indietro Poi posso trasportarmi Oars generator Questo sono curioso di sapere cos'è Livello 1 Ah ok Posso comprare un iron generator Per 4000 dollari Vuol dire che mi da un iron ingot ogni 5 minuti Oppure un pezzo di carbone ogni 3 per 2000 dollari Un gold generator 5.000 dollari Un pezzo d'oro ogni 12 minuti Un diamante ogni 15 minuti per 10.000 dollari Not work Che vuoi di not work? Qua ci sono quelli estremi mi sa Ah no i lapislazuli Clicca qui per mostrare come craftare un mega gener Cazzo è un mega gener Raga che cosa sta succedendo Mega generator Dopo che hai costruito questa struttura Rimani sul blocco di pietra per completarla Qual è il blocco di pietra? Penso sia quello in cima Dall'ossidiano Un botto di roba Non so è strana Così ci sono un botto di cose carucce La cosa senzale quindi è fare dollari Mi piace ragazzi Mi piace E' un po' il feeling di GTA Nel senso Devi fare soldi Quindi son contento Son contento Vai torniamo indietro Vediamo velocemente le altre cose che si possono fare Ehm Mystical crate Mystical crate mi sa che Posso prendere delle ricompense Se faccio certe cose Ho bisogno di una chiave per aprire il mystical crate Ok Che posso ottenere completando il monumento Ho capito Quindi a suo punto dire Andiamo a vedere anche il monumento o no? Mines and monument Ecco ragazzi Questa è la zona che vi parlavo Di cui vi parlavo prima E che si vede Dalla nostra isola Oak log Che cazzo è sta roba? Ah se io metto un coso di legno qua sopra Mi parte il tutorial Che mi spiega come funziona Però come vedete Io posso scavare le cose Quindi molto buono Questa è tutta una zona da esplorare E mi sta andando via la voce tra l'altro Non lo spawn Ragazzi voglio tornare all'isola Perché ho capito più o meno quello che mi dice Farò anche un'altra cosa Ma io la piazzo sta cosa Comunque caruccia Metto qui nell'angolino Con un bottone Quando mi sveglio L'accendo E' bello Mettiamo anche un cartello Che scriviamo Casa di Anzi Altro che casa Scriviamo Isola di Surri Isola di Surri E direi che possiamo iniziare alla grande L'albero non è ancora cresciuto Mannaggia lui Facciamo così Questa torcia Mettiamola qui Perché tanto qui abbiamo già una torcia all'interno dell'albero Quindi bene o male si vede Ragazzi Abbiamo sporato un po' Abbiamo visto le cose da fare Abbiamo fatto come suggerito Abbiamo portato il primo albero Io vi devo assolutamente lasciare Ah E' cresciuto Ma raga Ve l'ho detto io a volte me lecchiamo le cose Sono davvero fortunato In alcune cose davvero Mi prendo il legno ragazzi Inizio a farmare un po' di cobblestone Spero che mi dia altri alberelli Rimarrò qui un po' fk Spero che me li dia tutti E nulla Noi ci vediamo Nel prossimo episodio di sky progress Si prospetta davvero una serie Con il contro cojones Spero davvero che lo sia E spero che ci accompagnerà Per un bel po' di tempo E spero che vi piaccia Tanto quanto Sta facendo una buona impressione a me E niente Ci vediamo nel prossimo episodio Ricordo che mi piace Se è piaciuto il suo video Iscrivetevi al canale E se ancora l'avete fatto Insomma su Twitter In Instagram Facebook Ovunque voi vogliate Io vi saluto Ciao turuturututti Ciao! 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 Ciao!